Dopo due mesi esatti la vittoria torna a farsi vedere dalle parti del Rubens Fadini. Soffrendo, stringendo i denti contro un gavorrano volenteroso ma poco pungente, il Giulianova conquista tre punti che definire salutare e riduttivo. E dire che i grossetani in apertura con Fioretti vanno due volte vicini al blitz, ma se la prima volta manca la mira, la seconda è disinnescata da Sosi in area. In uno dei momenti più complicati della partita però, il lancio con cui croce serve lo scatto di Margarita è un invito anche minore rispetto allo scivolone di Bettini che libera il diagonale del numero 7. Lanzano battuto, Giulianova in vantaggio e per Margarita quarto centro in stagione. La reazione del gavorrano porta le firme di Peluso con lo esterno destro e Fioretti, girata senza però trovare la porta di Berletti. Margarita prova a calare il bis alla mezz'ora su cross di Gubinelli senza fortuna, ma è in avvio di ripresa che il gavorrano cinge ed assedio l'area giallorossa. Sosi al primo non si capisce con Merletti, ma Fioretti, ancora lui, a specchio spalancato non trova il pari. Così come al minuto 49 il destro calibrato di Manzo, prima che Merletti polga la firma in calce sulla gara odierna. Straordinario l'estremo giugliese quando al 55esimo cala due volte la sala cinesca in faccia a Peluso, prima sulla testata ravvicinata, poi sulla ribattuta da posizione invidiabile. Passata la sfuriata rosso-blu, Margarita prova col tacco a chiamare Pirelli al gol della sicurezza. Stoppato prima che minuto 91, Bettini lasciato tutto solo in area di rigore su uno degli ultimi assalti ospiti, giri centralmente il traversone con i giri giusti di sgambato. Boccata d'ossigeno al treplice fischio, il Giulianova rimane nei bassi fondi, ma abbandona l'ultima scomoda piazza in graduatoria. Tra una settimana la Giacomense, mentre a Magrini sull'altra fronte non bastano i complimenti per il suo gavorrano, chiamato a riscattarsi domenica prossima col San Marino. La squadra è stata brava a saper soffrire, quindi... Una prestazione di carattere. Sì, ma è quello che ci serviva, noi ci servivano i punti, abbiamo giocato molto meno bene, ripeto, delle altre gare, quindi una partita soffertissima, ripeto, contro una squadra decisamente buona. Giochiamo un buon calcio, purtroppo sbagliamo un pochino troppo sotto porta, però io dico, fino a che si creano c'è la speranza di poter addrizzare qualche volta il tiro. Oggi, come avete visto voi, abbiamo fatto un bel secondo tempo, molto intenso, abbiamo creato tre o quattro palle buone per poter pareggiare la gara, fino al novantesimo, però il calcio è questo, se non fai gol, tempo da dire, giochi bene, è un periodo che purtroppo non troviamo la porta.